Sabato scorso si è svolta presso il Royal Park i Roveri di Torino la finale dell'annuale trofeo di golf organizzato da Kia. Come sempre a fare gli onori di casa il campione Edoardo Molinari che insieme a Mischia 2014 ha premiato i vincitori delle diverse categorie. Una nota di merito per la nostra testata che con il suo direttore Alfonso Rizzo ha vinto nella categoria riservata agli ospiti realizzando il punteggio totale più alto di tutta la gara. L'appuntamento per la dodicesima edizione della Kia Golf Cup è per il 2015.